A vederlo è sembrata facile, però è stato così veramente? No, è stato molto difficile. Il primo stint è stato abbastanza facile perché ho avuto quasi 5 secondi di vantaggio su Lucas e dopo nel secondo stint facevo un po' fatica ad andare alla stessa velocità di lui. Avevamo tantissimo da risparmiare in energia perché ci siamo fermati molto presto al safety car. Alla fine sono molto contento con questa vittoria, sono due gare qui, due volte abbiamo vinti. Adesso voglio festeggiare un po' con il team e dopo andare a Parigi. Ti aspettavi il ritorno di Lucas Igrassi negli ultimi giri e soprattutto arrivare così? Sì, perché nel secondo stint ho subito visto che abbiamo cambiato un po' il setup perché generalmente c'è più grip quando hai 20 macchine che guidano per mezz'ora quindi abbiamo fatto una piccola cosa sul telaio e non è andato bene quindi sapevo che alla fine sarebbe stato difficile. Grazie. È stato difficile. Grazie. Grazie.